Due persone del Vallo di Lauro sono state denunciate ai carabinieri della stazione forestale di Marzano di Nola per reati di gestione illecita di rifiuti e incendio boschivo colposo. Si tratta di due uomini che grazie all'attività di indagine attraverso la quale sono stati incrociati dati informativi con quelli emergenti dai controlli del territorio, i carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due uomini che qualche settimana fa nel bruciare rifiuti vegetali derivati dalla pulizia di un castagneto nel comune di Mioschiano provocarono un incendio le cui fiamme interessarono anche il vicino bosco fino ad estendersi in un'area privata di circa 8 ettari. Per lo spegnimento dell'incendio intervennero gli uomini della comunità montana del Partegno, Valle di Lauro e della regione Campania. Alla luce delle evidenze emerse per i due presunti responsabili è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il risultato ottenuto è merito dei serrati servizi di istituto quotidianamente svolti dai reparti dipendenti dal gruppo forestale di Avellino, tesi a contrastare il fenomeno degli incendi boschivi che in quest'ultimo periodo ha interessato varie aree dell'Irpinia. Un problema rispetto al quale l'attenzione resta alta. Passato il pericolo più critico rispetto a questi fenomeni, non si abbassa l'attenzione da parte delle forze dell'ordine.